Un progetto di riqualificazione urbana del centro storico di potenziamento dell'impianto di depurazione sono stati al centro dell'incontro che il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha avuto questa mattina a Pescara con il sindaco di Giuliano Teatino, Nicola Andrea Cola. Nel corso della riunione, alla quale ha preso parte anche il vicepresidente del consiglio regionale, Lucrezio Paolini, il presidente D'Alfonso ha garantito attenzione alle istanze dell'amministrazione comunale giulianese.